Facciamo il punto su quelle che sono state le iniziative, dobbiamo dire è andata bene questa stagione natalizia con tutti gli eventi messi in campo? Sì, è andata più che bene, insomma erano tanti gli attori in campo, siamo riusciti a costruire questo calendario che ha superato il numero di più di 100 eventi, sono stati 102-104 tra programma e fuori programma, con un sacco di presenze, quindi questa è la cosa importante, vuol dire che se le forze sociali si mettono insieme all'insegna della cultura in questa città qualcosa succede, pur essendo periferia dell'impero, quando comunque uno ha voglia e soprattutto il desiderio di condividere la bellezza, queste cose riescono. Un Natale diverso è stato quello di quest'anno per Crotone? Assolutamente sì, almeno speriamo, questa è stata la nostra impressione, la partecipazione è stata larga, e quindi in questo senso vorrei ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato, hanno preso parte dell'organizzazione di Xmas Invasion, perché insomma ognuno ha messo un pezzetto, sia dal punto di vista proprio dell'organizzazione degli eventi, ma anche proprio dal punto di vista della presenza fisica anche nelle altre cose, soprattutto poi c'è stato un pubblico larghissimo che ha assistito almeno a uno o due eventi, abbiamo contato, siamo quasi sulle 10.000 unità che hanno partecipato in totale almeno a un evento di Xmas Invasion quest'anno. Pino, diciamo che alla fine quando ci si mette insieme si riesce a dare alla città delle risposte positive, e questo è stato un Natale diverso dagli altri. Questa è stata la prima prova di cercare di stare insieme in questa città, che solitamente siamo stati sempre divisi e abbiamo sempre alzato barriere uno contro l'altro. Quest'anno grazie anche all'Arci che comunque ci ha riunito e tutte le strutture associative hanno fatto un programma che hanno alietato comunque le feste natalizie di questa città, che in questo momento particolare sta vivendo un momento difficile anche di sofferenza, quindi abbiamo un po' alietato queste serate. E la prova che si può fare è che se stiamo insieme probabilmente riusciamo anche a riscattare le sorti di questa città. E infatti stare insieme significa proprio cambiare le sorti di questa città e passare da una situazione veramente critica e difficile a una situazione dove la speranza è un seme importante. Per fortuna che ancora c'è la speranza. Tra l'altro sono successe anche cose nuove, anche la venuta di questo nuovo arcivesco ci dà speranza di un rinnovamento, non che l'altro sia stato cattivo, ma quando c'è il cambiamento può essere che la gente si rimette di nuovo in moto. Lucia, dobbiamo dire che siete tutti soddisfatti per come è andato questo Natale, questo periodo festivo, con la collaborazione di tutti. Sì, diciamo che siamo abbastanza soddisfatti, anche perché siamo riusciti a coinvolgere circa una cinquantina di realtà del territorio. Non è facile, anche perché pensavamo di riuscirci, però è andato ancora meglio delle aspettative. Abbiamo toccato tutto il territorio, quindi non abbiamo lasciato spazi. Dobbiamo appropriarci di questa città. Si è abbracciato tutto perché si è voluto non tralasciare nessuno, perché tutti hanno bisogno di essere partecipati e partecipativi agli eventi. dai più piccoli a quelli che sono i piccoli però di una certa età, di una certa importanza. Quindi l'obiettivo è stato proprio questo, non lasciare indietro nessuno. Quindi fare questo abbraccio di accoglienza, questa spirale che è stata l'inizio di coinvolgimento, è una spirale che proprio ci stringesse tutti intorno.